Oggi video dove parliamo male dei tatuatori, vaffanculo io, tatuatori mi sono rotto il cazzo di quello che faccio io stesso, basta Tutte cose che succedono sui social dei tatuatori, delle tatuatrici, che hanno rotto il cazzo Abbiamo rotto il cazzo, ok? Allora, primissima cosa Sei sulla home, stai scrollando Ti appare uno dei 650 miliardi di tatuatori, teste di cazzo, che anche oggi hanno pubblicato il quarantesimo reel, video, quello che vi pare E c'è una carta che si sta bagnando Oh, si bagna E poi adesso la sta abbassando, quindi mi sta per far vedere il tatuaggio Adesso ecco me lo sta per far vedere, me lo sta per far vedere E si abbassa un po' di più, un po' di più, un po' di più E io sono andato già 45 storie avanti Perché vaffan... ho capito che vuoi farmi vedere, vuoi mettermi un po' di suspense Però ormai ci sono 16 milioni di miliardi di tatuatori Se tu ci metti più di 2-3 secondi a abbassare quella pezzetta Io sono già a vedere il prossimo cagnolino, la prossima zinnona che sta su una spiaggia Non sto vedendo il tuo tatuaggio Mi dispiace Quindi io ho cercato di tamponare la cosa cercando di fare sì quell'effetto Che è figo che bagni la carta e poi pulisci i passi e si vede sotto il tatuaggio Ma... Quigli, rapido Non può essere una cosa che ci vogliono 18 secondi prima che comincio a vedere metà del tatuaggio Forse è meglio fare le cose un po' più velocemente È la mia opinione, potete tranquillamente dirmi No strunzo, invece io lo faccio vedere per 4 minuti mentre si apre Quindi, oh, ognuno fa come vuole Io semplicemente sono sul mio canale e dico il cazzo che voglio Un'altra cosa è tatuaggio finale, foto o video dove si spalma quella cremina trasparente Ah, ha rotto il cazzo però è figa Quindi questa l'ho messa qui perché ha rotto il cazzo e ce l'hanno tutti tranne io Però è figa, cioè effettivamente è figa Però ha rotto il cazzo Fammi vedere il tatuaggio un po' opaco, no? Tutto lucido, sbrillucicante, mega figo Però è figo, è figo Terza cosa che non è per niente figa ma proprio zero non è per niente figa Sono le sponsorizzate dei tatuaggi Ma non le sponsorizzate in generale perché ci sta sponsorizzare il proprio profilo, i propri lavori, ci sta Io sto parlando delle sponsorizzate di tatuaggi indecenti Ma perché? Cioè sei un cane Anzi poveri cane, sei una bestia Sei povere bestia, sei una merda Ok? Sei una merda Sei una merda a tatuare Anziché impegnarti a cercare di migliorare A cercare di imparare a disegnare, imparare a tatuare meglio, imparare a fare questo No, tu dai soldi a Zuckerberg per sponsorizzare la tua indecenza Cioè tu rendi i social una merda Tu sei un futuro boomer Tu sei la rovina del mondo Perché paghi per sponsorizzare un lavoro pieno di linee storte, roba tremenda Perché? Stai sprecando soldi e tempo Cioè magari ci metti pure un botto di tempo a elaborare il reel, a fare delle cose Ci sta a farsi pubblicità anche quando si ha gli inizi Massimo rispetto, certo che si deve fare Però easy, nel senso Quando vedi che il tatuaggio è un po' più carino Lancialo di più Sponsorizzalo Se addirittura è così bello da essere sponsorizzato Però un po' di senso critico Se c'è un occhio che sta a fanculo Che ti sponsorizzi, amico mio Capisco l'onestà Però non dico che devi nasconderlo Dedica il tempo a studiare, dedica i soldi a cose che ti fanno migliorare No, a sponsorizzare la merda Un'altra cosa veramente che ha rotto il cazzo dei tatuatori Sono i followers fake Vai sul profilo Vedi che ci sono 15.000 follower 25.000 follower 40.000 follower Come se questo dovesse essere la normalità Tanti ormai si sono abituati che il tatuatore Il mio tatuatore ha 40.000 follower Sì, ma non fa una linea dritta manco se sbaglia Quindi I followers Nella maggior parte dei casi Nella stragrande Quasi totalità Dei casi Ci sono Tantissimi followers fake Su quel profilo che ti fa sembrare il tatuatore Ah, questo ha 15.000 follower No, vedi i lavori Vedi i lavori che fa Vedi se sono mega photoshoppati Vedi se addrizza le linee E in realtà i lavori fanno schifo dal vivo Vedi Cerca di capire queste cose Cerca di vedere Come sono i lavori Perché Diciamo È una cosa inutile Prima Si faceva tantissimo C'è stato un periodo in cui Instagram controllava meno questa cosa dei follower E Si potevano comprare follower Senza nessun problema Adesso ancora Penso che si possa fare Perché vedo tantissime persone con proprio Boom Un botto di followers Assolutamente fake Perché sono scarsissimi Quindi Diciamo Non serve a niente Per esempio Io 5-6 anni fa Misi un botto Che mi metteva da solo I follow E gli unfollow E questa cosa ti faceva crescere I followers Perché se tu segui mille persone E poi 200 ti riseguono Poi tu smetti di seguirli Quindi c'hai 200 followers in più E questo botto faceva in automatico queste cose Ma io mi sono ritrovato con l'account pieno di A parte che erano tanti fake Quindi secondo me questi botto pure lavorano Tramite contatti fake Che si ti riseguono Ma perché è una sorta di algoritmo Comunque Credo sia una roba mega contorta Ma io mi ricordo che ho Tolto Tantissimi followers Che mi avevano seguito Perché erano followers fake E mi vergognavo di avere Gente che mi seguisse Paresemente Finta Cioè Non ha nessun senso Avere dei follower fake Io ci caddi in questa cosa 5-6 anni fa Non è che siete Il male del mondo Se lo avete fatto Però Siete scemi Se continuate ad inseguire I followers fake Gli ho cancellati tutti Ne avevo guadagnati Mille 2000 Non mi ricordo Ma anche pochi C'era scritto che te ne davano Tipo 3000 Nell'arco di 2-3 mesi Invece Arrivarono molti Tutti insieme E erano contatti falsi In più Dopo Tot commenti Instagram Ti bloccava l'account Un casino C'è una roba che Come fate a gestire sta roba Nel senso Dedicare tempo a fare ste cose Secondo me è veramente triste Quindi aspirare ad avere Il tatuatore Con tantimila followers Ha secondo me Molto poco senso Cercate Più che altro Di vedere Quali lavori hanno i tatuatori E di sbattervi un po' Di quanti followers hanno Perché molto probabilmente Se sono tanti Potrebbero essere fake Un'altra roba Mirabolante Bellissima Stupenda Che fanno in tantissimi È l'avere sempre L'agenda piena Agenda aperta Tra 8 mesi Potete tatuarvi da me Vi do il privilegio Di tatuarvi da me Fra 9 mesi Perché io Sono bellissimo Sono bellissima Sono bravissima Magari invece Tatuano 3 giorni a settimana Soltanto I giorni dispari E quando io ho Nel senso Non lo so Conosco tantissime persone Che tatuano tantissimo E che dopo 4 settimane Possono farti tranquillamente Un tatuaggio Quindi Non lo so Io la rivedrei un attimo Sta cosa dei Eh no Perché il mio tatuatore Mi ha dato l'appuntamento Fra 4 anni Vabbè Secondo me non ti vuole tatuare Comunque 4 anni è tanto Ci sono tatuatori Che hanno una lista d'attesa Così lunga Ma perché magari sono Progetti giganti Gente che spacca i culi Allora lì Certo che c'è una lista D'attesa lunga Ma Meno lunga Di quello che pensate Nel senso Se dovete fare un tatuaggio Di questa dimensione E vi danno una lista D'attesa di 6 mesi Non lo so Io qualche domanda Me la farei A meno che Non è qualcuno Che gira il mondo Lavora molto lontano È palesemente Un tattoo artist Di livello Top Ma Nel senso Stiamo parlando di grandi nomi Il resto Boh È un po' strano Dipende Ultimissima cosa Che in realtà È giusto Che facciano i tatuatori Però è giusto anche Che io dica Che hanno rotto il cazzo Perché effettivamente Rompe il cazzo Sta cosa Per chi sta dall'altra parte È il post Su Instagram Del tatuatore Che dice Domani posto libero Causa pacco Ma di che Non ti si caga nessuno Stai soltanto cercando Di prendere appuntamento Diciamo la verità Però È vero anche Che tantissime persone Danno buca Quindi Diciamo Quando un cliente Ti da buca Metti L'annuncio Come storia E dici Oh Mi hanno dato buca Domani Dopodomani C'è qualcuno Che vuole venire E quindi Si inserisce Quindi Non è una vera cosa Che ha rotto il cazzo Perché Diciamo La maggior parte Delle volte È vera Però Diciamo la verità Tante persone Lo utilizzano Secondo me Per cercare appuntamenti E fanno bene Va a f***lo E che cazzo Siamo pieni di pubblicità È giusto pubblicizzarsi Anche con questi modi Particolari Non cattivi Dai Ci sta Ci sta Fate bene a farlo Io non lo faccio Perché Se mi danno buca Va a f***lo Faccio altro E piango In un angolo Però Diciamo Ci sta Che Sia se ti danno buca Sia se Vuoi semplicemente Vedere se c'è qualcuno Disponibile A fare un tatuaggio Last minute Mettere un post E scrivere Posto libero Caso a pacco Perché La maggior parte Delle volte Ripeto È vero Non voglio che adesso Mi scrivete qua sotto La strada Guarda che a me Mi danno buca Io lo metto Perché è vero È vero Va bene Ok Però Secondo me Tanti lo fanno Solo per cercare Appuntamento E fanno comunque bene Quindi Sottoscrivo Però Mi andava di dire Questa cosa Perché non lo dice mai nessuno Ma secondo me Molti Vi sputtano Snitch Ok E niente Per questo video ci siamo Dai Penso Mi sono riuscito a sfogare un po' Ero elettrico Prima di cominciare Adesso finalmente Scrivermi qua sotto Se anche voi fate qualcosa del genere O se anche voi Da fastidio O vi fa ridere Quando vedete cose del genere Su Il vostro Instagram E niente Fate buona giornata Ci vediamo in un prossimo video Ciao